Perché è importante un centro di raccolta? Perché è il centro dove possono essere conferiti i rifiuti che non possono essere conferiti nelle dotazioni stradali. Quindi qui abbiamo ingombranti, vediamo qui dietro le lastre di vetro che spesso vediamo vicino alle campane, invece questo è il luogo dove metterle perché lì invece cadono per terra e fanno grandi danni. Abbiamo l'olio vegetale per chi decide di conservarlo, abbiamo anche la parte degli abiti, le pile e soprattutto gli ingombranti. Quindi tutto ciò che noi abbiamo nelle nostre case e che non ci serve più o prenotiamo al numero verde l'816 1010 oppure lo possiamo portare qui, noi vi aspettiamo. È l'ottava isola ecologica della città di Napoli e si trova al centro del quartiere della sanità. È il primo impianto nel centro storico e sorge su una superficie di 800 metri quadrati sul sito di un vecchio distretto dell'azienda Asia. Dalle 9 alle 14 di tutti i giorni i cittadini potranno andare in questo centro attrezzato per la raccolta e l'avvio al recupero a conferire gratuitamente ingombranti di ogni tipo, oli e pile esauste ma anche lastre di vetro, abiti usati, elettrodomestici e strumenti informatici. Noi siamo in costante avanzamento, voglio dire che noi stiamo badando alla qualità di quello che raccogliamo, quindi non facciamo tanto le corse a questi numeri che poi dopo alla fine la metà di quello che vi ha raccolto va all'inceneritore. Noi stiamo puntando alla qualità, è una sfida lenta, i cittadini col tempo lo capiranno, abbiamo bisogno della loro collaborazione, ci sono ancora troppe persone che non rispettano i turni di conferimento, l'orario di conferimento, la prossima sfida è proprio questa, aumenteranno i controlli e le multe, ahimè, però lo dobbiamo a chi invece la stragrande maggioranza sta iniziando a collaborare. Ci sarà la possibilità di avere nuovi investimenti, l'amministrazione sta facendo il possibile per avere anche i finanziamenti regionali e statali, ne abbiamo bisogno perché tutte le città le hanno avuti, in modo tale di avere più attrezzature dedicate. Le prossime sfide saranno innovazione, ricerca e sviluppo. Si apre nel cuore del quartiere e poi è una risposta a chi tempo fa contestava da sì all'amministrazione di abbandonare il presidio sanità, quindi non solo non è stato abbandonato, è stata fatta un'opera di riqualificazione urbana e si può fare e faremo ancora di più. Oggi siamo convinti che sarà il quartiere che darà una bella risposta, come Napoli ci sta abituando a fare, partecipando alla raccolta dei rifiuti, interrompere l'abbandono di rifiuti che una piccola minoranza in città continua a fare sfregiando la città e quindi oggi c'è anche un'ulteriore opportunità, possono coinvolgere le scuole, le famiglie, i papà, le mamme, i nonni, venire qua e quindi fare anche educazione civica ed educazione ambientale. Grazie.